Questa intervista è parte di una serie di interviste condotte a persone che hanno fatto da mediatori culturali per la ricezione di Virginia Woolf in Italia per il mio progetto di ricerca Virginia Woolf in Italian Readers finanziato dall'Unione Europea con una borsa Marie Curie nell'ambito dei programmi di ricerca e innovazione Horizon 2020. Oggi intervisto Mario Fortunato che ringrazio per aver accettato di fare questa intervista, scrittore e giornalista che per quattro anni dal 2000 al 2004 se non sbaglio ha diretto l'Istituto Italiano di Cultura a Londra facendo peraltro muovere a suo favore leggevo personaggi del calibro di Doris Lessing e Harold Pinter che presero le sue difese quando cercarono di destituirla prima della fine del suo mandato se non vado errada. Ha scritto diversi libri e romanzi per cui è noto in Italia, cito in particolare i giorni innocenti della guerra perché c'è un personaggio che ama particolarmente le opere di Virginia Woolf. Questo romanzo fra l'altro ha vinto il premio mondello e si è classificato secondo allo strega. Ha lavorato per diversi editori, cito i più grandi, Inaudi e Bonpiani di cui parleremo oggi e per testate giornalistiche altrettanto di rilievo come L'Espresso e Repubblica. Però oggi io l'ho intervisto Mario Fortunato in qualità di traduttore di Virginia Woolf. Infatti lei ha ritradotto negli ultimi anni diverse opere di Woolf per Bonpiani a partire da lunedì o martedì Tutti i racconti, vediamo se si vede, che è uscito nel 2017, Londra che esce sempre nel 2017 e infine nel 2018 Orlando. Oh mamma, ecco con lo schermo, ecco qua. E quindi io le chiedo come prima domanda, da dove nasce l'idea di ritradurre questi tre volumi? Mi chiedo innanzitutto se è un'idea che nasce da lei o se è invece un invito che lei ha ricevuto da parte dell'editore Bonpiani a fare queste traduzioni e perché proprio queste opere? Dunque, salve e grazie per tutto quello che ha detto, che mi riguarda, faccio qualche piccola correzione, non ho mai scritto per Repubblica, mentre invece continuo a scrivere per il più importante quotidiano tedesco che è la Süddeutsche Zeitung. Altra piccola correzione, sì, ecco, quando Doris Lessing, Harold Pinter e altri, come dire, scesero metaforicamente in piazza per difendere il fatto che io potessi essere rimosso dall'incarico direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra, prima della scadenza del mandato, soprattutto andrebbe forse ricordato che, a parte che prima della scadenza del mandato era anche per ragioni che erano vergognosamente incostituzionali rispetto alla Costituzione italiana e, parlando un linguaggio internazionale, omofobiche, razziste e discriminatorie. È importante ricordarlo. Certo, ma sono felice che lo abbia aggiunto lei perché così abbiamo una conferma, insomma, che non sono solo... No, no, devo dire che anche grazie all'appoggio appunto di molti amici intellettuali inglesi rimasi al mio posto, quindi fu una battaglia vinta anche grazie a loro e quindi a loro va sempre la mia gratitudine sia per quelli che non ci sono più, come appunto Pinter e la Lessing, sia per quelli che ci sono ancora, che sono Anif Qureshi, Mia McEwan, Colin Firth, cioè anche di diversi campi, diciamo così. Chiusa questa piccola premessa. Dunque no, per quello che riguarda i tre libri tradotti di Virginia Woolf, sono state mie idee, non dell'editore, cioè sono nati su mia sollecitazione. In un caso sono particolarmente fiero, cioè nel caso del volume Londra, che raccoglie tutti gli scritti, diciamo così, londinesi, cioè con tema Londra, della Woolf. Sono particolarmente fiero di quella idea, perché non solo effettivamente non c'era in italiano, ma evidentemente non c'era neanche in francese, perché l'idea è stata ripresa dall'editore francese di Virginia Woolf, tant'è che il libro è uscito con la stessa, con l'introduzione, cioè insomma l'editore francese ha comprato la mia introduzione all'edizione italiana. Sospetto che non esista neanche in inglese. A questo punto non c'è lo scoperto. Io l'ho raccolti, insomma, i testi io li ho raccolti da qui e da lì. Ho come l'impressione, ma non ne sono certo, ho come l'impressione che non ci sia effettivamente un volume in inglese dedicato solo agli scritti su Londra, diciamo narrativo-saggistici o memorialistici della Woolf. Da cosa nascono queste traduzioni? In fondo da un particolare che lei ha citato, a un passant, cioè quando ha detto che in un mio romanzo di qualche anno fa c'è un personaggio che ama Virginia Woolf e addirittura la incontra una volta a una scena, una scena un po' mondana, insomma, a piccola libertà da scrittore, insomma, è così. Ho verificato che effettivamente in quei giorni, in quelle settimane, la Woolf e suo marito fossero a Londra, l'ho verificato sui diari, naturalmente, in modo da dare plausibilità a un racconto che è un frammento di invenzione e in cui non si dice assolutamente nulla, nel senso che questo giovane, questo ragazzo che ama la Woolf, appunto la vede a una scena, ma ne è talmente intimorito che non scambia nessuna chiacchiera con lei. Quindi lei non fa nulla di eccentrico, diciamo. Ecco, nasce da questo, cioè dal fatto che dietro a quel personaggio che si chiama Alastair c'è un po' di me, perché sempre in tutti i personaggi di invenzione, dei romanzi, c'è sempre un po' dell'autore. Insomma, tutti i romanzi sono sempre un po' autobiografici, come si dice, di Riffa o di Raffa, insomma. In quel romanzo, in quel racconto, in quel personaggio, era emersa in quel momento la mia passione per le opere di Virginia Woolf, a cui del resto avevo dedicato già un mio personale tributo, perché nel 1999 pubblicai un libro che è stato ripubblicato di recente. All'epoca lo pubblicai con Einaudi, perché era il mio editore Einaudi. Di recente, Bonpiani lo ha ripreso. No, devo fare così. Eccolo qua. Amore, romanzi e altre scoperte. Non era un romanzo, bensì una specie di memoire e antologia nello stesso tempo. Cioè, avevo scelto 15 o 20, adesso non mi ricordo più, brani da altrettanti libri di autori del Novecento, sia italiani che stranieri, che avevano rappresentato per me, ragazzo, cioè in un momento di formazione, diciamo nella tarda adolescenza, un capitolo importante, un capitolo di scoperta, che era scoperta ovviamente intellettuale, culturale, ma anche scoperta di sé, della propria vita, della propria identità, ecco se vogliamo. E' un brano antologizzato, spero che si possa leggere, non lo so, si vede, avevo scelto un brano dalle onde di Virginia, io la chiamo così confidenzialmente Virginia, perché ho passato molto tempo oramai in sua compagnia, e temo che fra non molto ne passerò dell'altro. nella bellissima traduzione che era uscita dai Naudi, di Nadia Fusini, fatta da Nadia Fusini. Ecco, quindi, questo era il 99, quando uscì questo librettino. Quindi, insomma, ho sempre avuto una certa... Così, cioè il lettore che è in me, diciamo così, è che occupa molta parte di me, fra l'altro, occupa una parte molto più grande di quella in cui io sono traduttore o scrittore. Il lettore che è in me è quasi tutto me. Voglio dire con questo che io sono prima di tutto un lettore, mi penso prima di tutto come un lettore. e quindi il lettore che è in me ha sempre considerato la Wolf un punto saliente della propria vita, della propria formazione e direi anche proprio della vita. Per anni, per moltissimi anni, ho avuto un partner inglese che ha dedicato molti anni a Virginia Wolf, il proprio PhD, eccetera, per cui era come una specie di figura in qualche modo di casa. Parentale, sì. Era come una suoccia. La capisco molto bene. Come una zia in casa mia anche. Sì, sì. Senta, questa cosa che lei dice sul suo essere lettore mi interessa in modo davvero particolare perché il mio progetto, come si intuisce dal titolo, Virginia Wolf in Italian Readers, vuole proprio concentrarsi sulla ricezione, sì, ma proprio in primo luogo dal punto di vista dei lettori e delle lettrici. E mi ha quindi molto interessata quello che lei ha scritto nella sua introduzione alla raccolta di racconti. Lei scrive che Kew Gardens è il suo racconto preferito, in primis da lettore e poi anche da traduttore. E visto che proprio lei accennava questo suo essere in primo luogo lettore, al punto di partenza lettore, cioè lei parte giustamente come lettore, come dovremmo fare tutto, tutti e tutte, nel senso che anche chi scrive forse dovrebbe ricordarsi che prima di tutto siamo lettori e Virginia Wolf questo lo aveva molto chiaro in mente, il ruolo del lettore nel rapporto della lettura. Ecco, allora mi chiedevo però come cambia la sua lettura quando da lettore diventa traduttore? C'è un cambiamento? C'è un'evoluzione? O riesce a mantenere il suo status di lettore inalterato? Non so se c'è un cambiamento. Il lettore constata una cosa molto semplice, e cioè che in alcuni casi i libri che legge in traduzione italiana non sono belli come nell'originale. È una constatazione naturalmente un po' sciocca, un po' frivola, anche un po' banale, ma inevitabile. Le faccio un esempio, di recente ho letto un romanzo di Thomas Mann che non avevo mai letto, stranamente perché Thomas Mann è un autore che ho amato moltissimo quando ero un ragazzo, ed ero sicuro di aver letto praticamente tutto, e invece non avevo effettivamente mai letto le confessioni del Cavaliere d'Industria Felix Kroll. Io conosco molto poco il tedesco, leggere un articolo in tedesco posso farlo, reggere una breve conversazione non impegnativa anche, ma leggere un romanzo poderoso e lungo di un grande autore non me la sento. Perderei talmente tanto il piacere appunto del testo. quindi naturalmente mi sono procurato una traduzione, l'unica traduzione italiana sul mercato. È una traduzione vergognosa, bruttissima. L'ho letto tutto malgrado la traduzione, nel senso che è una traduzione molto antica, vecchia, quindi che naturalmente andrebbe come minimo come dire spolverata, ma poi è proprio brutta oltre che vecchia. Non ho una conoscenza del tedesco adeguata, altrimenti mi sarei precipitato a segnalare agli amici della Bonpiani o a qualche altra casellitrice, avrei detto bisogna ritradurre Mann, come del resto negli ultimi anni è stato fatto perché la montagna incantata è stata ritradotta ed è diventata la montagna magica più correttamente. Il Dr. Faustus è stato ritradotto, cioè effettivamente c'era chiaramente un'esigenza. Mi capitò anni fa, oramai un po' di anni fa, di rileggere per motivi miei personali e anche molto occasionali alcuni racconti della Virginia Woolf. Fortunatamente la mia conoscenza dell'inglese mi permette, è un po' migliore di quella del tedesco e quindi mi permette di leggere l'originale, però volevo leggere la traduzione italiana per un motivo molto pratico perché poi siccome dovevo citare alcune cose in un testo italiano volevo citare la traduzione anzi non approntarla io lì per lì. Bene, mi accorsi che i racconti erano stati tradotti non proprio tutti, mi pare ne mancasse uno o due forse se non mi ricordo bene. Lei tenga presente e tenga presente chiunque ascolterà e vedrà questa intervista che io non sono un accademico non sono uno studioso quindi posso essere anche un po' generico certe volte e dire delle cose magari non correttissime filologicamente metto le mani avanti ma ripeto io sono soprattutto un lettore quindi i lettori non è che stanno lì a metterle note insomma ecco fanno le cose così un po' per passione per divertimento per interesse ecco mi accorsi che non erano mi pare proprio tutti tradotti o comunque al 95% erano tradotti in italiano ma erano tradotti da traduttori diversi quindi da voci diverse o da mani diverse e con notevoli differenze di qualità nel senso che qualche mano era francamente migliore di qualche altra insomma quindi come dire la voce della Wolf subiva dei cambiamenti che erano non solo inevitabili diciamo da un traduttore all'altro ma anche dei cambiamenti di qualità nella resa dell'italiano proposi quindi alla Bonpiani di fare un libro in cui io cioè un'unica persona un'unica voce diciamo così li traduceva tutti quindi in qualche modo dando loro una certa unità unità di stile perché evidentemente essendo sempre solo io eccetera poi non so se magari questo corrispondeva a un miglioramento anche della qualità perché naturalmente non ho questa presunzione di pensare di aver migliorato le cose spero di sì il libro è uscito ha avuto un'ottima ricezione in termini anche di vendite ma anche di recensioni ne ricordo una con particolare piacere di Pietro Citati molto bella molto lunga come un po' suo solito sul Corriere della Sera che metteva in luce una cosa che mi stava particolarmente a cuore cioè che secondo lui avevo fatto un lavoro da scrittore naturalmente la cosa mi gratificò mi fece piacere dopodiché l'appetito come si dice viene mangiando dopo i racconti scoprì questa cosa dei testi legati a Londra io a Londra ho vissuto per un certo numero di anni è una città che ho sempre molto amato e che continuo ad amare molto che conosco dove risiede tuttora una parte importante della mia vita Londra è una città verso cui ho anche una grande gratitudine perché è una città in cui sono stato spesso molto felice e dove mi sono sentito spesso molto amato per cui è una città a cui io sento di avere un certo debito di gratitudine e quindi l'idea di poterla come dire conoscere meglio attraversarla camminarla se così posso dire attraverso i testi di Virginia Wolf era una cosa che mi faceva veramente molto piacere appunto da molti punti di vista da vari punti di vista e così a strettissimo giro subito dopo i racconti tradussi appunto quei testi londinesi ecco mi ha anticipata perché devo dire che le avrei chiesto proprio questo nel senso che leggendo la raccolta Londra e parlo qui davvero da lettrice quindi non da critica né da studiosa di Wolf ma da lettrice si sente si percepisce che la scelta è una scelta legata a un amore personale che lei condivide con Virginia Wolf che lei stessa amava adorava la sua Londra e è come se si odorasse tra le pagine che questa raccolta viene da una da un pari da una pari passione insomma per la città quindi la ringrazio perché in qualche modo ha già risposto anche a un'altra domanda che le avrei fatto rimango invece però ancora un attimo su lunedì o martedì quindi sulla raccolta di racconti perché mi interessa un altro aspetto si apre la sua introduzione su un tono più luttuoso un richiamo a una discesa in cantina per distotterrare i propri morti però poi nella stessa introduzione lei giustamente fa anche riferimento alla felicità della scrittura di Wolf e al senso di gioia sorprendente e rapinosa e allora le chiedevo cioè le vorrei chiedere come è riuscito a coniugare questi due aspetti se hanno trovato un riscontro ad esempio nella lingua se ci sono racconti che sono stati più gioiosi dal punto di vista anche della traduzione proprio dell'atto di tradurre più divertenti più ritmati rispetto ad altri o se invece ha notato una uniformità tutto sommato stilistica credo di avere già un'idea della sua risposta ma mi piacerebbe sentirla elaborare no uniformità direi proprio di no nel senso che effettivamente quello che mi ha thrilled della appunto della traduzione di quei racconti era il fatto di ogni volta entrare in un sistema che era sempre lo stesso ovviamente era sempre la stessa scrittrice ma che mutava in continuazione anche perché siccome sono racconti che abbracciano un arco di temporale molto ampio nella vita poi della scrittrice naturalmente tu senti come lei si sposta appunto come cambia insomma come la sua prospettiva pur rimanendo sempre lei molto riconoscibile e però come dire la sua voce diventa più matura meno acuta più sicura per certi aspetti per altri anche più fragile insomma più complessa più anche più difficile da catturare perché quando una voce ha molte tonalità insomma è difficile da restituire insomma la lingua nella lingua d'arrivo diciamo in questo caso l'italiano io devo anche dire che essendo una così nella vita un maniaco ossessivo per me tradurre e in particolare tradurre Virginia Woolf è un po' come entrare e meglio lasciare che qualcuno entri nella mia testa e la abiti diciamo così cioè che entri lì insomma in qualche modo è come essere posseduti da qualcun altro e quindi è il suo meccanismo mentale quello che è importante cogliere perché la lingua sarà poi ciò che quel meccanismo produce il suono di quel meccanismo potremmo dire con l'immagine naturalmente questo suono appunto ha delle tonalità diverse insomma lei prima diceva di quel racconto Kew Garden ma me ne ricordo un altro questa signora in treno che immagina che una persona salva la trascenda insomma è una specie di racconto in un racconto insomma in alcuni casi tradurre era un'autentica non so come dire era come aver preso una droga insomma era molto eccitante ecco mi sentivo molto eccitato è curioso perché nei diari di Leonard Wolf lui spesso dice che appunto la moglie passava da questi stati di super eccitazione no? a poi picchi depressivi diciamo così ecco a me è capitato più volte mentre traducevo di sentirmi anch'io un po' over excited proprio un po' perché quella scrittura quel quel modo di scrivere era talmente felice era talmente anche sorprendente imprevedibile strano anche un po' pazzo che mi produceva una forma di pazzia diciamo così c'erano anche invece dei momenti in cui io l'ho detestata perché era così difficile penetrare dentro quella lingua dentro quel sistema era come se lei mi mandasse dei segni che io ero troppo cretino troppo primitivo diciamo così la mia mente era troppo primitiva per coglierne la finezza tutte le finezze tutte le sfumature e questo mi produceva un certo grado di dolore di dispiacere di l'impressione di deludere qualcuno di non essere all'altezza di quel qualcuno mi è capitato più di una volta mi ricordo per esempio questo breve racconto questi che sono tre piccoli brani insomma sui colori e qualche altro passaggio anche lì il segno la macchia sul muro insomma ogni tanto entravo invece in una fase di passavo dalla super eccitazione al dolore insomma alla tristezza anche alla coscienza di non essere appunto all'altezza della situazione di non avere la stessa possibilità espressiva di questa donna evidentemente con un talento straordinario e che io non ho purtroppo del resto come dire lei lo ha molto pagato in termini di sanità mentale insomma io per fortuna da questo punto di vista sono più sano e quindi mi è andata meglio per certi aspetti a proposito di felicità dello stile di ritmo dello stile passerei a Orlando perché lei definisce la prosa di Orlando fresca scintillante veloce ludica spiritosa eccentrica usa anche l'aggettivo camp che mi piace molto come termine associato a questo romanzo insolito ma molto adatto e quello che lei che soprattutto mi interessa è che lei dice esplicitamente che dovrebbe essere una lettura per gli studenti e siccome appunto ancora una volta mi interessa il punto di vista dei lettori è affascinante come invece non si ha mai dai brani antologizzati di solito c'è Alfaro la signora Dalloway ma Orlando non c'è mai nell'antologia per gli studenti fra l'altro Alfaro e Dalloway hanno entrambi un sentire molto più maturo un sentire molto più compiuto mentre Orlando ha un sentire molto più in divenire che quindi si adatta molto meglio al sentire adolosciutale ecco mi piacerebbe capire da lei a parte queste banalità che ho detto io quali altri elementi lei trova così adatti ai lettori ai giovani lettori e alle giovani lettrici ma io sostanzialmente è un po' quello che lei ha già detto cioè al cuore perché poi insomma noi possiamo fare molti discorsi anche molto dotti o molto acuti diciamo così però pensiamo appunto a dei ragazzi che vanno a scuola che sono degli adolescenti più o meno tra i 13 14 e i 17 anni 18 insomma al massimo quello è un momento della vita ricordo la mia adolescenza è un momento della vita in cui come dire l'identità è per definizione fluida siamo un po' maschi siamo un po' femmine siamo un po' questo un po' quello chi saremo non lo sappiamo condizione felice fortunata insomma perché poi saperlo significa sempre limitarsi insomma cioè è un momento della vita in cui grazie anche a un fatto banalmente ormonale come dire la vita è in piena effusione è in piena ribollire e quindi è capace di andare un po' in tutte le direzioni direzioni appunto identitarie mentali di curiosità non a caso a quell'età lì si sperimenta un po' tutto insomma si sperimenta veramente si sperimenta se stessi al fondo ora Orlando è questo Orlando non è che questo perché se uno lo raccolta cos'è la storia di un ragazzo che diventa una ragazza però non si sa bene che campa 300 anni cioè sembra un po' una cavolata un gioco un divertimento e lo è naturalmente lo è ma quello che dice Orlando con questa lingua che è sempre molto brillante che è sempre molto vivace che è anche molto allegra se c'è una una cosa molto forte in Orlando che non è il mio libro preferito di Virginia Woolf intendiamoci il mio libro preferito di Virginia Woolf è The Waves le onde non ho dubbi su questo insomma è un libro totalmente diverso da Orlando però ecco in Orlando c'è questa specie di sorgiva freschezza felicità espressiva del resto coincide anche con un dato biografico della scrittrice è un periodo un po' di scoperta lei è innamorata della vita Sacri West insomma non sa bene ci scoperà non ci scoperà non l'abbiamo mai capito ma non è così importante in definitiva sicuramente è stato importante per lei per noi come lettori è meno importante ecco e quella cosa se si proponesse a dei ragazzi a quell'età io credo che sarebbero molto capaci di coglierne appunto questa forza interna del libro e magari attraverso Orlando entrare nel sistema e nella mente di una delle scrittrici più complesse poi del Novecento ecco cioè io immagino che se noi proponiamo la lettura di Gita al Faro della signora Dalloway o appunto delle onde a un ragazzo di 15 16 17 anni probabilmente sbagliamo perché probabilmente gli mettiamo poi dipende naturalmente ci sono coloriose eccezioni insomma però in linea di massima probabilmente mettiamo nelle mani di un ragazzo qualche cosa di inespugnabile di difficile da penetrare viceversa Orlando è così prossimo alla sua stessa esperienza in temporale appunto abbraccia anche secoli diversi che questo può essere una chiave d'accesso verso la scoperta di un grande scrittore non di uno scrittore mediocre o minore del Novecento io non ho figli e quindi non so non mi occupo molto della scuola non ci penso neanche granché però ogni tanto mi rendo conto e capisco che questi ragazzi spesso come dire o non sono stimolati opportunamente alla lettura o sono stimolati nella maniera sbagliata nel senso che gli si dà da leggere cose che sono poco digeribili a quell'età o che sono già troppo digerite diciamo così e quindi li si spinge verso quelle regioni della letteratura che sono regioni commerciali un po' inù cioè voglio dire va bene leggere anche un buon libro giallo però insomma francamente chi se ne frega insomma non cambia l'assetto della tua vita un grande romanzo un grande libro può mettere in discussione anche drammaticamente la tua vita insomma o gioiosamente naturalmente quindi in questo senso diventa un'esperienza un'esperienza agnosiologica cioè viceversa la letteratura di intrattenimento secondo me non è neanche letteratura è un'altra cosa è una roba così che insomma con piacere uno fa ma insomma chi se ne importa insomma ecco penso che Orlando sì dovrebbe essere letto di più nelle scuole nelle scuole inglesi nelle scuole italiane non so se magari in Inghilterra lo leggono non ne ho idea in Italia non mi risulta come dice? alle notizie che ho non molto no perché immagino anche il motivo che sarà un motivo veramente cretino e cioè l'idea che appunto siccome c'è una una mutazione sessuale a un certo punto di identità questo potrebbe provocare turbamenti ma benissimo ma questo quella è l'età del turbamento però devo dire questo mi aggancio a un'altra cosa che le vorrei chiedere lo vedo più probabile per certi sistemi scolastici italiani in Inghilterra mi sembrano molto più insomma cioè da quello che ho potuto vedere ormai ad esempio il dichiararsi non binary tra i ragazzi del liceo del nostro corrispettivo del liceo insomma di tutta è assolutamente la normalità quindi anzi credo che questa fluidità di genere verrebbe apprezzata credo sia più una un'abitudine no a non considerarlo cioè considerarlo un divertissement e a non vederne la la potenza ecco a proposito però proprio di questa metamorfosi mi una cosa che ho trovato interessante nella nella sua introduzione è che lei non si concentra come fanno altri critici in altre introduzioni al romanzo in Italia sull'androgenia ma sulla metamorfosi e questo mi ha interessata perché ad esempio ero caduta anch'io all'ini proprio quando ero ancora una tesista laureanda ero caduta nella trappola dell'androgenia Orlando è entrambi i sessi ma in realtà o nessuna delle due cose ma in realtà no cioè Orlando è prima uomo e poi donna in maniera molto netta cioè semplicemente dice nulla è cambiato solo il sesso ecco però è cambiato questo sesso e mi chiedevo però se invece dal punto di vista della lingua che lei ha potuto ovviamente analizzare a un livello più profondo attraverso la traduzione lei avesse visto una androginia linguistica o se invece questa metamorfosi la vista e la vissuta nella sua traduzione anche a livello linguistico sì sì io penso che il cuore di quel romanzo il cuore più forse più interessante almeno dal mio punto di vista e proprio appunto risiede nella parola e nel termine e nella diciamo costellazione che risponde alla parola metamorfosi è come se Wolf dicesse continuamente a noi lettori e qui appunto non penso più ai ragazzi adolescenti che possono cogliere felicemente il primo strato diciamo così di questo romanzo perché la letteratura ha questo di straordinario rispetto direi l'arte in generale ha questo di straordinario rispetto al commercio mettiamola così il commercio è quello che noi compriamo un oggetto ci serve è utile poi si rompe lo buttiamo e ne compriamo un altro l'oggetto però può diventare arte cioè può avere questa specie di più che difficilmente riusciamo a definire la storia della filosofia è piena di tentativi ma insomma tutti più o meno non riusciti che cercano di dire che cos'è l'arte l'arte è la possibilità di dire tante cose diciamo così di comunicare tante cose di aprire tante possibilità di parola di comunicazione dentro a un oggetto conchiuso ecco nel caso di Orlando appunto lasciamo sarebbe bello che appunto gli adolescenti lo leggessero perché possono cogliere tutto quel lato più superficiale se vogliamo della trama del racconto della storia del personaggio ma se noi che siamo un po' più adulti soprattutto io rispetto a lei come dire come dei palombari ci tuffiamo dentro e andiamo un po' più verso il fondo dell'oceano e scopriamo che lì c'è un lavoro più complesso che ha fatto la scrittrice ed è un lavoro la cui diciamo così il cui se così posso dire messaggio chiave è ogni cosa è un'altra cosa sempre ogni parola si rovescia in un'altra parola ogni oggetto diventa un altro oggetto ogni realtà diventa un altro pezzo di realtà è come se lei dicesse non c'è la realtà fisica assoluta ma c'è tutto ciò che noi cogliamo continuamente e quindi la nostra interpretazione della realtà e quindi in questo senso la realtà si trasforma continuamente attraverso gli occhi di chi la vede per una felice coincidenza mentre traducevo Orlando stavo rileggendo non l'ho più fatto degli anni del liceo per l'appunto le metamorfosi di Ovidio e ho colto immediatamente che in fondo se c'era un testo diciamo così da cui forse Orlando discende che lo sappia o no non importa se la Wolf lo sapeva o non è rilevante dal mio punto di vista ma se c'è un testo da cui proviene Orlando è proprio la metamorfosi di Ovidio cioè l'idea che appunto non c'è separazione fra la realtà e il mito fra Dio e gli uomini insomma perché c'è una continuità e la continuità è rappresentata da questo linguaggio che trasforma tutto che come dire che tutto che tutto riplasma insomma ecco in fondo il punto secondo me più profondo di di Orlando io così ho provato a dirlo questo libro ha un suo strano destino che è stato come dire soprattutto negli ultimi 20-30 anni cioè quello di essere diventato un testo chiave della cosiddetta letteratura di genere che secondo me è il lato meno interessante insomma è uno dei lati possibili ma insomma non è tutto lì non è la trasformazione di questo ragazzo che diventa una giovane donna che poi sposa anche un uomo un uomo inafferrabile incomprensibile per certi aspetti che forse ha anche una delle origini molto diverse dalla sua e infatti non a caso la trasformazione avviene da maschile a femminile e lei è in una specie di allucinazione orientaleggiante diciamo così turca un po' è così lì potrebbero venire in soccorso tutti quegli orientalisti quei pittori orientalisti insomma con tutti quegli abiti quelle cose eccetera ecco quella quella trasformazione lì appunto è una è una metamorfosi è un cambiamento cambiamento è anche rovesciamento insomma c'è continuità ma c'è anche una rottura insomma in questo senso credo che Orlando sia un libro più sofisticato e complesso di quello che molti pensano senza altro anzi forse non fu proprio colto fino in fondo questo aspetto quando venne per la prima volta tradotto in italiano ricordo che fu il primo libro di Wolf tradotto in italiano nel 1933 tra l'altro curiosamente perché quando dico ad esempio questa cosa in Inghilterra ad esempio negli Stati Uniti si sorprendono perché dico ah ma praticamente hanno tradotto sotto regime fascista la storia di un una storia di un transgender quasi ma probabilmente appunto si vedeva un aspetto molto fantastico no favolistico che l'Orlando richiamava il furioso quindi era tutto un po' una fantasia onirica e lo si è letto molto poi bisogna anche considerare vabbè c'è una considerazione banale che è commerciale cioè effettivamente Orlando è un libro che aveva avuto molto successo e quindi quindi si traduce di socio c'è anche un'altra piccola considerazione che va fatta e cioè che se noi pensiamo ai sistemi totalitari del novecento cioè il comunismo e il fascismo il fascismo e il nazismo in realtà mentre nei comunisti c'è una specie di non so come dire di bigotteria e di rapporto insomma di considerazione del sesso che è molto molto è più vicina a quella se vogliamo vetero cattolica insomma no cioè molto fra fascisti e nazisti c'è invece una straberia interessante cioè interessata mostruosa anche per carità intendiamoci però come dire c'è ecco io penso che fascisti e nazisti abbiano avuto meno paura del sesso dei comunisti parlando sempre di regimi totalitari mostruosi orrendi eccetera però in questo senso per esempio lei consideri che il fascismo in Italia non ha mai avuto delle leggi che vietavano apertamente l'omosessualità perché in realtà l'omosessualità non esisteva ah sì non si ponevano proprio il problema esatto che è una cosa piuttosto interessante da un certo punto di vista perché quello l'idea che l'omosessualità non esista potenzialmente in realtà apre la strada a una serie di comportamenti anche di possibilità non a caso molti gerarchi sia fascisti che nazisti erano per esempio omosessuali riflessione interessante io di solito chiudo l'intervista chiedendo all'intervistato se dovesse regalare a una giovane donna a un giovane uomo un romanzo o un'opera di Wolf cosa sceglierebbe ma credo che ci siamo già risposti cioè credo che la sua scelta richiederebbe su Orlando o sbaglio? beh saputo su un se si trattasse di una persona piuttosto giovane sì si immaginiamo giovani lettori che non l'hanno mai letta e quindi un giovane lettore sì non avrei alcun dubbio se invece si trattasse di persona più matura più che magari già ha un certo uso di mondo diciamo così penso che opterei per le onde eh quindi ce ne chiedo qual è stato se lo ricorda insomma il primo romanzo che lei lesse di Wolf e se lo lesse in italiano o in inglese? l'ho letto in italiano anche perché ero molto ero molto giovane e ho letto quello che all'epoca era Gita al Faro insomma poi in seguito è stato adotto diversamente però all'epoca io avevo una traduzione non so di chi fosse la traduzione era una vecchissima edizione Garzanti mi ricordo sì non so di chi fosse la traduzione francamente non me lo ricordo perché poi l'ho riletto nella traduzione della Fusini col titolo mutato diciamo così riportato diciamo alla sua filologica correttezza insomma però la prima volta l'ho letto si chiamava Gita al Faro e avrò avuto 15 anni ero molto tempo fa moltissimo tempo fa mi ricordo di averlo letto d'estate perché ricordo al mare insomma mi ricordo che ero spiaggia e l'ho letto sicuramente in italiano perché all'epoca appunto oltretutto il mio inglese è stato io non ho mai fatto studi di inglese sono come si dice un'autodidatta e anzi avevo anche una certa indisponibilità perché avendo un problema di bilinguismo familiare col francese ero poco disponibile ad assumere una terza lingua francamente e invece poi curiosamente per motivi che credo neanche il dottor Freud sarebbe probabilmente in grado di dipanare l'inglese è diventato dalla diciamo dai vent'anni ventidue ventitré anni in su è diventato la lingua per me la lingua dell'intimità dell'innamoramento della la lingua del partner che non è stato uno ma sono stati vari e curiosamente di lingua tutti di lingua inglese fino all'ultimo e quindi il mio rapporto con l'inglese è stato molto curioso molto come dire io non ho mai studiato l'inglese non ho mai fatto un corso di inglese non so all'università poiché mi sono laureato in filosofia ho studiato il tedesco per esempio la storia della filosofia è molto tedesca e poi appunto c'era il francese l'inglese è come se si è trovato una sua strada che è stata appunto la strada dell'affetto dell'amore della passione dell'intimità anche dell'erotismo naturalmente del desiderio e curiosamente adesso è una lingua certe volte quasi più importante dell'italiano vorrei dirlo ma per esempio è una cosa molto bizzarra io scrivo da molti anni poesie che però non ho mai pubblicato e che non ho nessuna intenzione di pubblicare e ho sempre scritto in inglese non ho mai scritto in italiano che sia legato forse alla lingua dell'emozione come diceva lei non lo so mi viene in inglese mi vengono le rime in italiano no non so perché per esempio è curioso io ho una gatta qui in campagna e con la gatta parlo in inglese e la gatta non capisce le faccio prima domanda se può rispondermi mi parlava di probabile nuova relazione con Virginia Woolf ha quindi in cantiere una nuova traduzione dunque più di una cosa in realtà a un certo punto ho suggerito alla Bonpiani di tradurre i diari in forma integrale perché io non so se come sosteneva Borges il quale diceva che i diari erano il libro più bello della Woolf io non sono d'accordo diciamo però è sicuramente un'opera di grandissimo interesse anche di grandissima bellezza e siccome in italiano non esiste una traduzione completa sono stati pubblicati come si dice spizzichi e boccone insomma bits and bobs si direbbe in inglese ecco suggerito alla Bonpiani di fare una traduzione integrale e all'inizio pensavo di farla io stesso per dire la verità poi mi è presa un po' di così un po' di paura un po' di timore avendo appunto io delle ambizioni anche come scrittore diciamo così ed essendo in un'età in cui l'orizzonte davanti comincia a non essere così ampio perché è più quello che c'è dietro che non quello che c'è davanti mi sono detto certo se io affondo dentro questi cinque volumi c'è il rischio dovrò investire i prossimi quattro cinque anni avessi avuto trent'anni quattro cinque anni si investono a trent'anni a sessanta ti viene un po' di paura e allora abbiamo trovato una una formula salomonica diciamo così per cui la persona che sta traducendo il primo volume è già tradotto credo che uscirà nel corso di quest'anno non saprei dirle ancora di preciso quando ma credo in autunno da buon piani e la traduttrice è Giovanna Granato che è una traduttrice dall'inglese che ha già tradotto molte cose Myla Wolf è la prima volta ha tradotto molti libri di Edna O'Brien insomma di tanti altri autori contemporanei per lo più e io come dire firmerò le introduzioni e farò un po' diciamo così una specie di curatei quindi prossimissimamente devo scrivere appunto questa introduzione al primo volume perché mi è arrivata la traduzione adesso la leggerò con calma l'ho già letta una prima volta ma insomma la devo rileggere poi sì probabilmente tradurrò ancora una cosa io e cioè la stanza tutta per sé perché ecco onestamente io se dovessi dire che cosa vorrei tradurre avrei tradotto le onde perché ripeto è il libro che io considero più importante della Wolf insomma un libro veramente chiave però un po' ne ho paura un po' la traduzione della Fusini è tuttora in commercio ed è un'eccellente traduzione io come lettore poi sono anche una persona pratica e umile penso traduciamo una cosa per fare una cosa utile anche non è solo il mio personale piacere insomma è anche una cosa di utilità io forse in un'altra vita ho fatto l'editore perché penso sempre che i libri devono avere poi un senso per un pubblico eccetera quindi appunto le onde per ora è un progetto così che forse non realizzerò mai invece invece la stanza tutta per sé mi permette un po' di entrare di più nella nella scrittura non strettamente diciamo narrativo creativa diciamo così insomma della Wolf ma in quell'altro lato ed è un libro importantissimo sia nella sua storia personale che nella nostra storia di lettori e direi che forse dal punto di vista delle traduzioni in commercio non è così ben trattato diciamo per carità voglio dire ci sono delle buone traduzioni insomma però ecco sento che lì c'è uno spazio dove il mio lavoro umile può essere speriamo utile poi magari totalmente inutile anzi una traduzione orrenda eccetera però insomma penso mi potrebbe essere un po' più utile ecco quindi sì vorrei tradurre la stanza tutta per sé non so quando però intanto questo impegno a lunga scadenza con i con i diari non di traduzione ma di cura pensa di mettere anche delle note come ha fatto con Orlando questo è una curiosità beh sì beh sì certo io rispetto a quello per esempio penso che le note io sono memore di una cosa che diceva Giulio Inaudi che è stato il mio primo editore e anche una persona a cui ho proprio voluto molto bene così insomma personalmente umanamente e cioè che delle note non bisogna abusare cioè bisogna tenersi molto stretti perché il lettore si stanca insomma ma però non bisogna neanche abolirle perché perché ci sono dei passaggi io per esempio adesso sto leggendo questa nuova traduzione nuova relativamente ma insomma di qualche anno questa nuova traduzione del Faustus appunto di Mann che è uscita nei Meridiani e devo dire che ci sono troppe note cioè se uno leggesse quello praticamente non leggerebbe il romanzo a un certo punto perderebbe il filo non so eccetera qui e là però sono molto utili perché ci sono dei passaggi che semplicemente altrimenti tu non capiresti bene perché ci sono ogni autore porta con sé dei riferimenti alla propria cultura al proprio mondo noi non conosciamo noi lettori italiani non conosciamo così bene non lo so la cultura tedesca 7 800 insomma mi capi insomma alla stessa maniera per Wolf poi nel caso specifico dei diari credo che sia anche proprio necessario perché i nomi i cannoni uno dice ieri pomeriggio è passato da qui Nessa e uno magari non subito realizza che era sua sorella Vanessa insomma adesso ho fatto un esempio un po' cretino ma insomma per capirci lì per molto un uso di nomi e addirittura di vezzeggiativi di nomignoli che che non è detto che tutti sappiano a che corrispondano insomma ecco quindi vanno un po' chiari tutte le cose io la ringrazio tantissimo per il suo tempo in primo luogo e poi per questo viaggio che alla fine ci ha portato proprio dentro la prosa e i pensieri di Wolf e la saluto per questa sera grazie a lei spero di non essere stata una completa perdita di tempo nella maniera più assoluta anzi assolutamente lo spero lo spero molto grazie a tutti